La previsione per i prossimi giorni Per la settimana qualche possibilità di temporale localizzato qui tra gli appendini del Reatino per quanto riguarda tra lunedì e martedì sempre nel pomeriggio ma anche per la settimana prossima quelli che sono poi i modelli matematici ci dicono che il bel tempo dovrebbe perdurare quindi avremo anche per la prossima settimana l'alta pressione che ci farà compagnia. Questo chiaramente come protezione civile ci dà qualche preoccupazione sul fronte degli incendi boschivi, la vigilanza è molto alta, per il momento in provincia di Rieti non abbiamo avuto grossi problemi sotto questo punto di vista ma ovviamente con queste temperature e con la mancanza di pioggia c'è il rischio dell'insorgere di incendi che comunque ci dà qualche preoccupazione. Quindi la vigilanza come ripeto è molto alta e siamo pronti a intervenire così come tutte le altre componenti di protezione civile allo quando ci siano dei problemi o delle criticità sul fronte degli incendi boschivi. Grazie a tutti!